Termina 2-2 la sfida del Savini tra Notaresco e Uneted Riccione. Per due volte Belloni recupera lo svantaggio e avvicina sensibilmente il rosso-blu alla salvezza. Ma riavvolgiamo il nastro, il Notaresco deve riscattare il capo di Fossombrone e continuare a marciare sul ritmo dei play-off. Per farlo Bruno si affida a Belloni e Ruggero, ma deve rinunciare a Scipioni per un risentimento muscolare dell'ultima ora. Dall'altra parte qualche problemino di troppo con le sonnero di mister Giancarlo Riolfo alla vigilia della gara. I romagnoli si presentano dunque in Abruzzo, orfani del tecnico e d'Indoi, espulso nella gara persa contro il Vasto Girardi. In panchina va Raffaele Ferrioli, dirige Giosu Ambrosino di Torre del Greco. In avvio il Notaresco prova a prendere in mano le redini del gioco. Rossi deve distendersi sulla conclusione dalla distanza di D'Aloia. All'undicesimo però il Riccione trova il vantaggio. Pellacani deposita in rete senza problemi il servizio proveniente dalla destra. I rosso-blu subiscono il colpo e al sedicesimo Caponi pennella una punizione insidiosa. Matteucci si avventa sulla sfera senza riuscire a deviare. La traversa salva Curtosi. Ancora Riccione tre minuti più tardi, ma la rasoiata di Matteucci è debole. Poco prima della mezz'ora Caponi non indirizza bene un calcio di punizione da posizione defilata. Nel finale di tempo torna a spingere il Notaresco. Sugli sviluppi di un corner rimischia, sbuca Ruggero, ma Rossi si trova il pallone tra le braccia. Tre minuti prima dell'intervallo i terramani rimettono in piedi il match. Forcini sprinta sulla sinistra e propone al centro per Marrancone, che colpisce male. La traiettoria favorisce Belloni, che trova la zampata vincente e raggiunge la doppia cifra. Con le immagini di mano il centroame passiamo alla ripresa. Al decimo, altra svolta. Su una punizione dalla tre quarti, Martinelli finisce a terra all'interno dell'area. Per il signor Ambrosino di Torre del Greco non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri Ferrara incrocia, Curtosi intuisce, ma sulla respinta è il più lesso di tutti e Caponi che insacca. Il nuovo vantaggio Romagnolo dura appena otto minuti, perché al diciottesimo il notaresco trova la parità. Belloni sfrutta un traversone basso e teso dalla destra. Il numero nove non fallisce l'appuntamento con la doppietta personale. Il notaresco preme e mette in serie a difficoltà il Riccione. Pietrantonio sfonda sulla sinistra e prova il tiro cross a servire Marrancone, che viene chiuso. L'azione continua, ma nessun rosso-blu trova la zampata vincente. Al venticinquesimo ancora pericoloso capitano Pietrantonio, con un tentativo dalla distanza che Rossi controlla. Da segnalare l'uscita dal campo di Marrancone in barella, in bocca al lupo per il classe 2005. Al quarantunesimo Bonfiglio costringe alla respinta con i pugni Rossi, direttamente da calcio di punizione. È l'ultima emozione del match, che si spegne dopo quattro minuti di recupero. Notaresco e Riccione si dividono la posta in pallio dopo una gara intensa. Due a due il risultato finale. Grazie.